Ieri mi sono sentito felice tutto il giorno, perché tornando a casa ho trovato il suo messaggio. Sapevo che sarei tornato qui da lei. Io non ho nessun altro con cui parlare. Nella mia vita non succede mai niente. Qui invece mi sento vivo. Posso finalmente piangere. Non ero mai riuscito a piangere prima. Mi fa star bene. Certo non è sempre così. Tante volte esco da qui triste, frustrato. E per consolarmi un po' devo comprarmi qualcosa nei negozi qua sotto. Ma oggi è diverso. Oggi ho solo voglia di piangere. Piangerei tutta la vita.